eccoci qua ragazzi siamo qui a commentare questa questa sconfitta niente dovrei mettermi le mani in testa mortacci vostra banda di pippe troppo facile è troppo facile nelle sconfitte è troppo facile è troppo facile io non v'eseguo più io non v'eseguo più ma avete levato le iscrizioni mi avete rotto il cazzo dopo il torino ho detto non si può giocare così comunque si abbiamo i tre punti ma la roma non ha giocato bene non vai da nessuna parte a giocare così e niente ho detto calma via di vertera perché battuto un genoa e rimaneggiato con sette giochi in meno terzo ultimo classifica e uno zio da che non è una squadra un torino in casa facendo un catenaccio e trovando un tiro un gol e va bene così ma non è così non è questo il calcio che si può fare con questa squadra perché non è la juve depo bar pirlo vital d'allegri che dice vabbè te metti tutti dietro poi alla fine il singolo la risolve il gol non prendi sempre e va bene così la roma gioca male è disorganizzata non ha intensità e che vedevo dite mancini che si aggira lui patrizio si si buttano i tardo mancini va già altre volte è capitato che si aggira un difensore forte non lo fa mai e niente io lo so che adesso e tutti quanti no perché è bollito quello con l'altro perché così ma è troppo il problema è che io mi sto staccando di fare comunicazione sulla roma non ce la faccio più sono arrivato a un un orlo di esaurimento perché io combatto con gente purtroppo che non capisce di calcio qualcuno lo fa apposta per me ce capisce anche ma vi prende in giro fra gente di radio giornalisti della comunicazione youtube pagine de merda che vi prendono per culo e io devo ogni porta sta qua e di ragazzi comunque è una sconfitta fuori casa non è successo niente perché come la classifica non la guardavo prima non la guardo adesso è una battuta del resto molto importante pure perché adesso avrei l'inter dove te mancherà abram te mancherà casdorp dove l'inter ha fatto ampio turn over e sarà difficilissimo però purtroppo è come vi raccontano la roma e come io provo a raccontarvelo a roma e passo per quello che che invece di che che c'è alessio che vi manna con i piedi per terra è realista è pragmatico vedete notizie vedete calcio mercato cerca di sta e invece no vanno bene chi vi prende per culo da una vita va bene sta gente qua che vi prende per culo da una vita gente che parla di calcio non sa che è neanche un pallone un campo da gioco purtroppo è questo io ripeto ho perso le iscrizioni dopo Roma Torino aveva fatto anche una battuta Giuseppe Sonetti ma io ripeto io anche ad oggi rimango con Mourinho io vi aspetto dopo questa partita che incomincerete a fare i sondaggi su Fonseca era meglio Fonseca io vi aspetto qua vi aspetto qua per me non non è così io con il Torino che aveva vinto ve lo dicevo lo dicevano altre partite che vinciamo adesso è facile è facile abbiamo perso è una sconfitta che brucia una sconfitta amara però ragazzi che è facile parlare adesso e dopo le vittorie fai Cesaroni e adesso ammazzare la Roma mettete qua che devo dire che devo fare che bisogna fare io non ve capisco mi diventa difficile sta diventando impossibile fare comunicazione sulla Roma perché non capite in tanti non capite non ci arrivate proprio ragazzi non ci arrivate non c'è niente da fare io sono più tifoso della Roma di quello che voi immaginate io ci sto male per vedere una Roma del genere vorrei che le cose che cambiano io ho 41 anni sono un po più grande di tanta tanta gente ho visto i rome forti i giocatori forti sto provando a arzare la sticella ma intanto non che vi dico oggi ti ripeto 90 milioni sul mercato e dopo oggi è facile di 92 stanno è facile dimmo prima dimmo a inizio dimmo fate queste cose qua dopo Roma Torino fate come me che a me non mi era piaciuta la Roma e l'ho detto che non si potrà giocare così con Genova era uguale con Genova se come avevi giocato però purtroppo 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 io ve lo giuro sto veramente facendo fatica le tanti c'è tanti c'è goderete godete che io può essere che mi stanco e smetto di fare comunicazione sulla Roma perché godete fate bene ma tanto è così l'aria è quella perché non ce la faccio più non ce la faccio più io per me per me in tanti siete troppo stupidi io non gliela faccio più raccontava Roma veramente non gliela faccio più tanti siete troppo stupidi tanti siete le pagine che sono la rovina della Roma e tante pagine tanti giornalisti tante radio che do veramente sarebbe io ragazzi per me sta diventata veramente dura io sempre questa anche oggi anche oggi forza Roma sempre e sabato starò stadio e niente ciao